Ciao ragazzi, noi siamo i Boko Gamers, io sono Tzuki e io sono Ryoza e ben ritornati in questo nuovo amichevole quegli iscritti Wuhuuu Yeee, oggi tempo di rivincite Ehm, allora Ha cambiato 50.000 volte il nome Per cui non sappiamo più come chiamarlo Allora, era Jawee, poi è diventato Akaia, Doyle Shingod, se non sbaglio Shingod, si, poi Nozomi Accelerator Quindi scegli quello che vuoi Comunque è sempre lui Esatto Che tenterà di riprendersi una rivincita con Ryo Con me, infatti, sono qui Come vedete dal mio capitano, raga, ho modificato un po' la formazione dall'ultima volta Sono in quella fase in cui inizio a fare esperimenti pazzi Quindi abituati a vedere tante cose Allora, il limite delle skill è S50 Quindi restiamo più o meno come le altre volte Ehm, non ho tolto le animazioni dei contrasti Perché ovviamente me le dimentico sempre Anzi, forse le ho tolte, o no? Non mi ricordo, Ryo Non ti ricordi? No Se non so ricordali Probabilmente non le ho tolte Comunque, facendo esperimenti pazzi Devo trovare una formazione che mi permetta di sopravvivere con i due legami in croce che ho io Eccolo qua Oh, stesso capitano, batti 5 Dalla pesca Ovviamente se leggete Luke 127 perché lui e Luke sono soci, raga Prima Luke ha va chiesto di sfidarci, poi è toccato a lui Quindi non vi preoccupate, sono due persone diverse, però condividono l'account Un po' come possono essere file Ale Perfetto Vediamo un poco se la formazione cambia Ah, l'hai detto a limite dei S5 Ah, l'hai detto, ok S5 Sì, sì Quindi godrò qui la partita sfaparanzata sulla sedia Ok Come ovvero siamo più o meno lì, raga, come vedete Sono 7k di differenza Ecco come la sto usando ora, sempre con due legami in croce, raga Ok, come legami più o meno siamo lì Ok Non cominciamo No, è avversario però, non so Eh, lo so Sì, ma com'è che ultimamente chi sfido io c'ha la connessione ballerina Lol Siamo in Italia, porca miseria, nel 2020, queste connessioni aggiustatele Loro sono in Italia, a me mi dice Stati Uniti Eh vabbè Buongiorno Il povero Living Club Io lo sto riutilizzando perché mi serve per far quadrare il team E' stato molto doloroso a crossarlo via Saku L'immagine Proviamo ad andare in fascia Su Sanuzzo Ok Snyder lo passiamo easy Lui ha usato la skill per il colpo dell'incendio Così poi le sospie saranno più potenti Luce è arrivato esterno ma Andrebbe neanche a vederla infatti In attesa di avversari Perfetto Ok non ho tolto le animazioni come volevasi dimostrare Eh non sei contento Ha Che vedrai Che vedrai ha Quando si userà il Snyder Avanziamo Con Sanuzzo Con cui hai fatto pace recentemente ricordiamo Già Uh Ok la solo spizzata Quindi è arrivata Giulia dovrebbe arrivare Chi c'è in mezzo Il Urabe E L'altro Living che non conosco E' quello con l'auto in torcetto Ah Allora Vediamo se riesco a passarlo Tutto è passare Urabe Ti prego Non ti importa Niente Nonostante fosse a passiva spenta E vabbè C'era un netto vantaggio di stats Ma niente da fare Urabe dice No NOOOOO Sicuramente Urabe dice Sempre no Qua si laga Vediamo un po' Hello Dark Smile 3 Passerai Per la prenderai Si sicura Anza con 1 2 Che dio però con questi caricamenti così lunghi perdi il ritmo E gliela prende grande Misugo Gravissimo Grande Misugo A differenza del mio Misugo Questo perché si è bloccato Il solito bug schifoso di questo gioco E ancora oggi non lo correggono Cosa? Ma cos'è? Mi prego fate un meme del Adesso non ho neanche visto cosa sta succedendo Ah l'ha presa Muller Ok Si è andata bene dai Non lamentiamoci Vi prego fateci un meme Delle Bruegol Con tanto di movimento Che sta pensando Vediamo Ok non me l'ha letta Il nostro amico Kevin Schmidt Si è preso Misugi Eh Ci provi ugualmente Secondo me si aspetta il passo a zero Bene Vediamo No me l'ha letta Bella Ci vedano troppo a toccare Vabbè Finora stavo andando benino con le letture Qua è stato più bravo Sì ma è impossibile giocare così Con il caricamento A 200 anni A 2k 2 megabyte La connessione degli anni Degli anni 90 Che poi magari è al mare Da percolare La È lo Darkness My Old Friend Parte 2 Qua è stato più bravo Lol Questi tempi di attesa così È un macello Sì ma perché non ha Cioè Cioè Shingo lì Perché non ha Vabbè Ti stavo mangiando le carbonare Ma è lì a fianco Ma perché non li fa matchare È una cosa scandalosa Vediamo un po' Mullerone 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 Niente 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 Solito Nukesaki Che sfonda Non ci si può far nulla Contro il Nukesaki Ma come si fa con i caricamenti così a giocare Ma come a dire Oh mio Dio Ho preso goal No Cioè Anche caricando la tristezza Ma perdi tutto il ritmo Anche caricando la tristezza Ryo Sì Sì Non c'è Sì No nel senso silenzio Perché l'azione è troppo lenta Non riesci neanche a gasarti Ci mette 10 minuti ogni caricamento Cioè Ti smorza tutta la cosa così Eh perché non possiamo cantare? Si e chi gioca poi Cioè vedi Uno ci presta una connessione Grazie Si la presta al nostro avversario LOL Oh no Arriva lei Spetta a te Speravo di fregarlo così Invece no Col bianco non si riesce a passare Pazienza va bene Ryo non si arrende Mai Problema è che con i caricamenti così Diventa un'ansia giocare Sì che io però mi sono arresa Nell'altra partita eh Gravissimo No 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 No, veramente è così impossibile giocare, raga Buonanotte al secchio Non so se da voi si chiude Eh, vabbè Ma è normale, lo sigilla, su Sì, ma sempre l'intercetto Perché sì, è così Posso vedere il contrasto di tanto Eh, non cambierebbe, farebbe di dribbling, non cambierebbe nulla Nonché Eh, ti faccio male No, mi fai sbagliare, tu peggio E tanto c'è il caricamento lungo, quindi Eh, scusami Eh, non è da fuorigioco quello Non è fuorigioco Siamo solo, solo Non si capisce nulla Dai, Yushizaki del nostro cuore Ha tenuto in un blocco, non sa bloccare Incredibilmente non sa bloccare Sotto i Shizaki Ma in teoria questa qua Muller non dovrebbe Avere particolari problemi In teoria Ricordate che c'è anche il mister RNG Che ci sembra sempre di traverso Sì, ma con i caricamenti così davvero è impossibile, raga No, cioè non riesci a seguire la partita È estenuante Cioè 18 ore per vedere l'esito di un match Vabbè Vabbè, c'è Ma di che parliamo, dai Nettamente sopra Ma va bene così E col caricamento così non si può Raga, facciamo una cosa Se non avete la connessione stabile Non la facciamo Non la facciamo Cioè non si può giocare così Anche perché è che è brutta da guardare poi Non è solo per noi giocare O no Ebbè Comunque ho notato che questo Stormi è il re dell'RNG Anche durante l'Exhibition Cup si è vista una cosa Scandalosa Vabbè Bello Oh, Ryo Non vuoi vincere Ma chi se ne frega Cioè è una certa Il punto è che cavolo Non vuoi giocare, Ryo Oh, per la prima volta vediamo Trubasa con l'intercetto Che si posa Seriously, dai C'ha due di tiro Dai Ma com'è sta cosa Dai Ryo Perché non l'ha presa Oh, quando deve laggare a lui Non gli lagga Cioè quando gli deve laggare non lagga Ma poi non ho capito perché gli è rimasta a terra invece di Di essere alta Boh, io non ho capito questo Voi bug, i bug, i bug, i bug E vabbè Il ryo esasperato sarà il titoletto Cioè veramente Cioè veramente raga Così non si desi neanche a giocare Poi lasciamo perdere l'RNG Lì Quello non si può fare nulla Orvai non fa tutto il testo Cioè Ma come fai a capire? Boh Oh Oh Non è che c'è il live in di da mangi Ah Tu scopi Tu scopi Tu scopi Tu scopi Mi da un po' Nuova Tsubasa No veramente Raga se avete la connessione messa male Veramente ma ve lo chiedo come favore Personale cioè lasciamo perdere La facciamo un'altra volta Perché giocare così Cioè davvero diventa Complicatissimo E poi il video viene lungo il doppio Sono già 18 minuti I tempi normali Durano 14-16 minuti E questo è un po' di corco paleno All'improvviso Vediamo almeno il gol della bandiera Se riusciamo a farlo Wow Sono rimaci Questa non ha senso Cioè Cioè questa non la para mai Esparas Ma mai nella vita Proprio Dai è una seconda occasione Per ritrovarci Oh troppo RNG Lo sa anche lui E' apprenuto un miracolo E' normale Non ha neanche stanno L'unica è passarla a Roberto Per aspettare E' niente Lei si addormenta durante No ho sbagliato Ho scelto Roberto Te l'ho anche detto Perché stavo controllando Però non ho ripigiato Susano Capita anche di sbagliare C'è passione Ovviamente questo non ce l'abbiamo Ma abbiamo questo Quello bianco Ci manca solo la segna col tiro bianco No io me ne vado Cioè me ne vado Si segna col tiro bianco Me ne vado Non posso Giustamente Meno male dai Giustamente E niente Ringraziamo per la partita Questa settimana Va toste Vabbè abituatevi Perché tanto Con il team che abbiamo Si ce l'era spesso Poi facendo gli esperimenti Ancora di più Fatta vedere io Che ho messo Muller Allo secondo tempo Quindi abituatevi Sarà un po' la normalità Questa Già Finché non Prenderemo qualcosa Che davvero ci permetterà Poi quando ci si mette anche l'RNG C'è niente da fare E niente Però almeno questa E' una partita più equilibrata Rispetto a quella Sì Ma guarda Questa partita è stata decisa Dall'RNG su Yuga E l'RNG di Espadas Quindi Alla fine era molto equilibrata Però ci sta raga Non è che Può sempre andare Come la matematica vuole Giustamente Ogni tanto succede anche così E giusto così E niente Prima del prossimo Fantastico video Di Captain Tsubasa Dream Team Mazzucchi vi invita Seguici su tutti i nostri Proprii social Che troverete nel link In descrizione Iscrivetevi al nostro Servo e disco Iscrivetevi al canale Condividete Mettete un piaccio Attivate la campanella Supportateci con tutte queste azioni Passateci a trovare Passate a trovare I nostri amici Della comunità italiana Di Captain Tsubasa Dream Team Su Facebook E noi ci vediamo Alla prossima Alla prossima Ciao Ehi tu Sì proprio tu Non puoi chiudere il video Senza aver messo like E senza condividerlo Non vorrai mica Far arrabbiare Bocco Non sei ancora iscritto Al canale? In alto troverai Il nostro magnifico Trio in versione ridotta Cliccaci sopra E attiva la campanella Non preoccuparti Non attiverà Stranessone i lie Ma ti avviserà Non appena sarà disponibile Un nuovo video In alto nei due lati invece Troverai due video Scelti apposta per te Con le mie zampette Grazie per aver seguito Fino alla fine Ci veniamo qua Alla prossima